allora buongiorno altra puntata di da zibao la sesta questa volta altra altra location ancora un'altra stanza questa volta siamo in compagnia di matteo melchiorre e il duca il duca è il primo romanzo pubblicato da matteo melchiorre con inaudi anche questo è un romanzo del 2022 quindi uscito un anno e mezzo due anni fa anche matteo melchiorre è più giovane di me per cui non avrò belle parole per lui non è vero e dunque visto che allora ricominciamo un atto abbiamo detto puntata numero 6 io sono sempre nicolò questa da zibao uno spazio in cui diciamo consiglio e condivido condivido mi piace di più condivido delle letture che mi sono piaciute in questa sesta puntata parliamo di il duca di matteo melchiorre ok romanzone romanzo 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 proprio romanzo senza forse un aggettivo dopo che vada a specificarlo me l'avete chiesto in tanti di parlare di un romanzo molto accessibile perché non rientra in sottocategorie sottogeneri che richiedono poi dopo magari una una passione un interesse o qualcosa questo è proprio un classico romanzo spero di aver già detto abbastanza volte la parola romanzo contatele e ritemele nei commenti allora torniamo a noi cosa dire della della trama poco è la storia di una comunità montana una comunità montana che lotta contro il tempo per non sparire lotta contro il tempo nella speranza che certe cose possono rimanere che il mondo non cambi che il mondo rimanga quello che è sempre stato e quello che ha contribuito a formare questa questa comunità una comunità che come molte si sta svuotando sta perdendo vita ma che rimane aggrappata alcune delle sue tradizioni alcuni dei suoi modus operandi matteo melchiorre è un grande esperto di di montagna perché molte delle sue altre pubblicazioni che ha fatto con altri autori comunque richiamano la montagna i boschi quant'altro quindi è un fine conoscitore e lo si vede perché questo è un libro in cui il contesto e l'ambientazione sono molto importanti perché appunto c'è il momento diciamo socio economico dei paesini di montagna quindi è molto importante che sia inserito in quel contesto ma si va oltre perché il paese il contesto diventano protagonisti è uno di quei libri in cui è è talmente forte e talmente definito il l'ambientazione in questo caso questa comunità il paese la villa dove dove sta questo questo duca che è uno dei dei personaggi è talmente forte talmente marcate talmente importante che ne diventa un protagonista a me piace questo genere di di romanzi di di lettura in cui l'ambientazione è determinante un po perché ritengo che l'ambiente sia fortemente determinante un po perché ritengo che soprattutto nel nostro contesto italiano ci sia tanta ricchezza nelle singole comunità questo è uno dei motivi per cui così un passato vi dico mi piace molto Sasha Naspini perché è una cosa che ritrovo sempre nei suoi libri la forte la forte presenza della comunità dell'ambiente siamo qui quindi torniamo a Matteo Mlecchiorre il duca la trama non c'è molto altro a dire se non che una serie di vicende ci sono una serie di personaggi tutti personaggi molto interessanti tutti i personaggi definiti in maniera chiara le loro vite si intrecciano ci sono dei versi casus belli chiamiamoli così che che si succedono ci sono c'è appunto la la voglia di un paese di rimanere ancorato a una vita e a una realtà che ormai sta sfuggendo una cosa molto bella e che ho apprezzato del libro prima di dirvela faccio una premessa non so già da quanti minuti è che faccio sto video ma siamo alle premesse la premessa è questa sto veramente cercando di commentare questo libro col freno a mano tirato perché a me è piaciuto tantissimo e quello che voglio evitare di fare è di alzare le aspettative perché vengano deluse ma questo libro qui a me è piaciuto tanto quindi cerco di stare controllato per non esagerare con l'hype perché non vorrei poi dopo che qualcuno lo leggesse dopo aver ascoltato questo mio video e ne rimanesse un po deluso perché in quel caso non sarebbe una delusione da libro ma sarebbe un eccesso di aspettative carate da me perché il libro veramente è bellissimo tornando a noi allora dicevo la montagna importante è talmente importante che è importante anche nel linguaggio infatti un libro che inizialmente non è subito accessibile dategli un po di tempo dategli la possibilità di arrivare perché quello che fa milchiore di inventare un linguaggio un linguaggio di montagna che 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 partecipa di tutta quanta la lettura quindi bisogna entrare un po in empatia con questo con questo linguaggio ma che in realtà è una forma di ricchezza importante e rende ancora più forte il legame con la montagna è uno di quei libri che dicevo bisogna lasciargli il tempo di arrivare ma poi è uno di quei romanzi che è capace di drogare mi sono ritrovato a leggerlo mentre aspettavo che le mie figlie uscissero dalla scuola quindi prenderlo su in macchina mettermi su una panchina e avere il tempo di leggere cinque pagine ma aver bisogno di leggere quelle cinque pagine uno di quei libri che vi fa voglia di raschiare tempo per tornare nella villa col duca nei nei boschi col duca in montagna col duca e capire tutto quello che succede si potrebbe spendere due parole anche sul personaggio del duca sul protagonista che è un personaggio che a me piace il giusto nel senso umano cioè non non come personaggio creato come se io conoscessi uno come il duca non sarebbe un mio amico però è creato molto bene cioè definito in maniera molto chiara ed è un grandissimo personaggio senza bisogno di essere un esempio anzi ci sono diverse volte che mi verrebbe da andare a dargli un calcio nel sedere donna se sono raffinato non ho detto culo però questo perché è fatto molto bene non cade mai nella definizione dei personaggi in quelle banalità del tipo il personaggio sempre buono il personaggio sempre cattivo qui personaggi hanno tutti uno spessore quello del duca è molto particolare a me è piaciuto molto quindi tornando a noi una lettura che io straconsiglio una lettura per tutti fermo restando che bisogna avere un attimo di pazienza per dare la possibilità di allinearsi col linguaggio ma è importante arrivare a fare questo allineamento perché non devo guardare questa storia questo video fa tutto così forse perché ho paura che c'è dalla sedia da un momento all'altro tornando a noi un libro che bisogna aspettare un attimo ma poi quando arriva cattura uno di quei video che poi alla fine ti fa venire ti manca quando lo finisci che ti scopri ad essere vorace ma poi ti penti di essere stato così vorace una bellissima lettura che mi è piaciuta un sacco quindi che vi consiglio anche questa volta lui è Matteo Melchiorre uno scrittore più giovane di me che quindi per questo non amiamo questo è il duca e in Audi una lettura che ripeto vi consiglio perché vi porterà veramente a spasso al di fuori di quello che è il vostro qui ed ora ma vi porterà dentro le pagine sarà in grado di isolarvi proprio e farvi venire la voglia di andare a farvi un giro nei boschi di andare a farvi un giro in montagna bene direi che anche per questa seconda puntata seconda sesta puntata abbiamo terminato l'ultima cosa quindi da dire così perché l'ho vista adesso spogliando 450 pagine leggetelo un romanzo proprio da mi voglio leggere un bel libro Matteo Melchiorre il duca quante volte avrò detto romanzo in questo in questo video ditemelo nei commenti grazie per guardare i video e alla prossima